la vera lasagna è fatta con pasta strati di pasta con il ragù normalissimo ma soprattutto la besciamella la besciamella deve essere soda e deve essere a tocchetti quando dai una forchettata della lasagna si deve vedere le file della pasta qualche pezzo di ragù e ti capita a volte qualche pezzettino sodo di besciamella